Nello scontro dello scorso pomeriggio tra Renzi e Grillo in diretta streaming fa discutere fuori e dentro il Movimento 5 Stelle e Grillo se la prende con i dissidenti perplessi per il metodo usato. Simona Burattini. Il giorno dopo l'incontro tra Renzi e Grillo il Movimento si divide sul faccia a faccia e crescono i malumori. L'esistenza di dissidenti viene confermata dallo stesso Grillo che sul suo blog pubblica una lettera in cui si legge quattro senatori del Movimento 5 Stelle manifestano perplessità circa il metodo usato da Grillo nel corso del confronto con Renzi. Ma perché non parlano della pietosa difficoltà in cui si è trovato Renzi per tutta la durata del confronto? Per i quattro senatori dissidenti la consultazione voluta dalla rete tra il Movimento e il Premier incaricato è stata un'occasione perduta. E spiegano in una nota, si poteva chiedere a Renzi in streaming cosa pensa delle grandi questioni su cui il PD non si è mai spesso in modo chiaro come il proseguimento della realizzazione della TAV e del progetto F35. Ed in caso spiega. Nessuna lacerazione, noi abbiamo una forte unità con i nostri attivisti nella convinzione di poter fare il meglio per questo paese. Se le persone però io non sono d'accordo con quello che stiamo portando avanti, si devono confrontare con la rete e con le persone che ci hanno votato. E il Movimento 5 Stelle oggi lancia la consultazione sulle soglie di sbarramento da applicare alla nuova legge elettorale. Fino alle 19 di questa sera gli iscritti potranno decidere se mettere la soglia di sbarramento o no.